Continuano aggiungermi segnalazioni di casi di sottrazione internazionale di minori, spesso accade che uno dei due genitori porti il figlio legittimamente all'estero, privando quindi il bambino delle cure, dell'affetto dell'altro genitore. In Italia i casi sono quasi 100 all'anno, dal 2009 al 2015 abbiamo avuto quasi 610 casi. Il problema è che spesso il genitore ha difficoltà a far tornare il bambino illegittimamente portato all'estero, perché mentre nella legislazione degli altri paesi europei questo tipo di reato è un reato che crea allarme sociale, quindi è considerato come violenza psichica e fisica sul minore, in Italia sono circa 100 i casi di sottrazione di minore all'anno e dal 2009 praticamente 600 minori sono scomparsi e non se ne hanno tracce. Il problema è che nonostante l'Italia abbia ratificato la Convenzione dell'AIA sugli aspetti civili della sottrazione internazionale, le pene legate a questo reato sono relativamente lievi e non permettono quindi alle autorità italiane di recuperare e far tornare il bambino in Italia. Nonostante il governo sia stato sollecitato sia in questa legislatura che nella scorsa, non sono state messe in atto nessun tipo di misure, per questo motivo abbiamo depositato questa proposta di legge. La sottrazione di minore all'estero è un problema molto importante, ci siamo confrontati con persone addetti ai lavori che ci hanno detto che possono intanto essere presi dei provvedimenti molto semplici da realizzare. Il primo, quello che ci proponiamo di portare avanti con questa proposta di legge, è quello di aumentare le pene che sono previste per il reato di sottrazione di minori all'estero. Attualmente la pena va da 1 a 4 anni, noi vogliamo portarlo da 1 a 6 anni. Con questo aumento del massimo della pena sarà possibile applicare anche a questo reato lo strumento delle intercettazioni, che tanti addetti ai lavori ci hanno detto che può essere importante per riuscire a combattere quella che può essere considerata una piaga. La tutela dei minori per noi è fondamentale, qualsiasi vicenda, qualsiasi contenzioso che riguarda le persone adulte, i genitori di minori, deve riguardare soltanto loro. Per questo ci impegniamo, perché i minori rimangono fuori da dinamiche che non gli devono interessare. La proposta di legge sull'ex, come al solito fateci avere tutte le vostre segnalazioni, critiche, suggerimenti, è una proposta molto importante, ci vediamo sull'ex.